Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni del tempo per i prossimi giorni e soprattutto per le giornate di mercoledì e giovedì. Avremo ancora tanta instabilità sulle nostre regioni, specie sul centro nord tra la presenza di un flusso atlantico molto fresco che attraversa da ovest verso est il Mediterraneo, quindi ancora tanta instabilità mentre l'estremo sud comunque verrà parzialmente lambita dall'alta pressione africana che porterà comunque tempo più stabile seppur caratterizzato da qualche momento di instabilità soprattutto nelle ore pomeriggine. Dunque tra mercoledì e giovedì 10-11 giugno tanto maltempo su tutto il centro nord avremo rovesci e temporali diffusi soprattutto sulle aree colinarie montuose, quindi sulla penino centro settentrionale, l'arco alpino, le zone prealpine, pedemontane, ma i fenomeni comunque coinvolgeranno anche la pianura padana e localmente anche le coste di Marche, Abruzzo e Molise. Attenzione alle grandinate, le piogge a carattere di nuvitragio. Qualche locale temporale anche nelle zone interne del sud, specie Basilicata e Puglia, altrove più sole e tempo stabile, specie tra Calabria e Sicilia. Le temperature mediamente tra i 23 e i 26 gradi, quindi clima caldo ma senza eccessi, molto fresco di notte e nelle ore e serenze. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo aggiornamento.